Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Ilaria e questo è un nuovo video True Crime. Se siete interessati a questo genere di video vi consiglio di iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche e se vi va potete anche seguirmi su Instagram o aiutarmi a far crescere il mio altro canale. Il link lo trovate qui sotto nella descrizione. Detto questo iniziamo. Il caso di oggi ha avuto luogo nel 2015 in Alabama, uno stato sudorientale degli Stati Uniti e la protagonista di questa drammatica storia è Jolie Callen, una splendida ragazza che aveva soli 18 anni all'epoca dei fatti. È inutile dire che aveva tutta la vita davanti, ma come sempre il suo carnefice era una persona che non accettava un no come risposta e comunque ha pensato che questa giovane donna fosse di sua proprietà. Jolie Callen era nata il 29 dicembre del 1999 dai suoi genitori Michael e Regina. Viene descritta come una brava ragazza, vivace e molto gentile. Amava gli animali, infatti pensate che aveva un cane, un gatto e un cavallo. Inoltre era appassionata di fotografia e di recitazione. Era molto intelligente ed era anche molto brava a scuola, infatti prendeva sempre ottimi voti e i suoi genitori la descrivono proprio come la figlia modello. Era un adolescente dolce e intelligente, insomma la figlia che tutti vorrebbero avere. Era cresciuta vivendo una vita ordinaria, la tipica vita di una ragazza americana. Catturava spesso l'attenzione delle persone, non solo per la sua personalità molto brillante, ma anche perché le piaceva cambiare spesso il colore dei capelli. Li tingeva di colori piuttosto vivaci come il rosso, il rosa o il viola, che tra l'altro il viola era il suo colore preferito. Viveva a Vincent, un piccolo paesino di circa 2000 abitanti, situato appunto in Alabama, uno di quei paesini dove si conoscono praticamente tutti. All'età di 17 anni Jolie stava frequentando il college ed era piena di energie e di aspettative per il suo futuro. Proprio in quell'anno conobbe un ragazzo. Questo ragazzo era più grande di lei, infatti avevano tre anni di differenza. Si tratta di Loren Banner che aveva vent'anni. Chiedo scusa in anticipo perché sono quasi sicura che dirò Loren o Loren, non riuscirò a pronunciarlo sempre nello stesso modo nel corso del video, quindi scusatemi. I due ragazzi iniziarono a frequentarsi e scoprirono di avere molte cose in comune e, come tutti gli adolescenti, si innamorarono molto velocemente. Inizialmente questa coppia sembrava essere molto felice. Loren sembrava un ragazzo molto dentile, molto dolce, ma con il tempo iniziò a trasformarsi, iniziò a cambiare atteggiamento nei confronti di Jolie. aveva cominciato a mostrare un lato del suo carattere davvero molto preoccupante. Era un ragazzo molto insicuro, molto chiuso e non aveva molti amici. Al contrario di Jolie, che era una ragazza allegra, vivace e aveva moltissimi amici, Loren iniziò ad assumere un comportamento sempre più prevaricante nei confronti di Jolie. Non voleva che lei uscisse con i suoi amici e pian piano la stava allontanando da loro, le stava impedendo di vivere una vita sociale e voleva che questa ragazza dedicasse tutto il suo tempo insieme a lui, che tra l'altro trascorreva giocando ai videogiochi. Ma il suo atteggiamento diventò sempre più allarmante, perché era diventato molto geloso, molto possessivo e non voleva assolutamente che Jolie frequentasse i suoi amici, specialmente i ragazzi, e questo suo comportamento diventò sempre più insostenibile per questa ragazza. Quindi litigavano molto spesso e Jolie non era per niente felice. Trascossero insieme da fidanzati circa dieci mesi e a questo punto della relazione Jolie divenne consapevole del fatto che Loren non era affatto un bene per lei. Lei voleva vivere la sua vita da adolescente e quindi non riusciva più a sopportare la sua pressione e decise quindi di chiudere la loro relazione. Purtroppo chiudere con questo ragazzo non si era rivelato molto semplice. Infatti, come possiamo immaginare, ogni volta che Jolie tentava di chiudere la loro relazione, Loren cercava in tutti i modi di farla rimanere insieme a lui. Addirittura arrivò anche a minacciare di farsi del male. Questo ragazzo era piuttosto insistente, ma soprattutto viene descritto come un gran manipolatore, quindi in qualche modo, almeno inizialmente, riusciva a farla rimanere con lei, facendo leva sui suoi sensi di colpa. Jolie aveva dato molte possibilità a Loren, ma a un certo punto decise finalmente di mettere fine al loro rapporto che era completamente distruttivo. Nel 2015 decise di chiudere la loro relazione e, come possiamo immaginare, Loren non la prese affatto bene. Comunque, nonostante le sue suppliche di tornare insieme, Jolie rimase ferma nella sua posizione e, dopo qualche tempo, iniziò anche a frequentare un altro ragazzo. Comunque, Jolie e Loren rimasero in contatto, rimasero amici e lei cercava in tutti i modi di aiutarlo a superare la fine della loro relazione. Cercava in tutti i modi di spingerlo a uscire con altre persone, a riprendere in mano la sua vita. Tra l'altro, in precedenza, avevano preso un cane insieme, un cucciolo. Si chiamava Kiba. Spoiler, non succede niente a questo cane qui, tranquilli, non succede niente al loro cane, alla piccola Kiba. E questo cane viveva a casa di Loren e Jolie andava comunque spesso a trovarla. Quindi, nonostante la fine della loro relazione, Jolie era rimasta amica di Loren. Cercava di essere di supporto, cercava di aiutarlo in qualche modo e questo, amici, neanche a dirlo, si rivelerà un grande errore. Jolie continuò a stare vicino a questo ragazzo come amica, anche se lui comunque continuava a chiederle di riprendere la loro relazione. Purtroppo a volte era molto insistente, ma la ragazza comunque era ferma sulla sua posizione e poi, come vi ho detto prima, in quel periodo stava frequentando da pochissimo tempo un altro ragazzo. Ma arriviamo al 29 agosto del 2015. Quel giorno Loren chiese a Jolie di accompagnarlo a fare un'escursione il giorno successivo. Jolie rispose di sì, perché comunque avevano questo rapporto di amicizia e poi non credo che lui l'abbia mai minacciata. Da quanto ho capito, dalle fonti che ci sono in rete, era sempre lui che minacciava di farsi del male. Quindi, secondo me, questa ragazza non ha visto dei grossi campanelli d'allarme. Comunque, lo stesso giorno, Jolie inviò un messaggio a una sua amica, nel quale scrisse scherzosamente, se mi succede qualcosa sai con chi sono. Il 30 agosto del 2015, quindi il giorno successivo, erano trascorsi circa due mesi dalla loro rottura. I due ragazzi, insieme al loro cane, uscirono insieme. Si recarono al Pinotty Trail nel Cheeha State Park in Alabama. Il sentiero ideale per fare un'escursione e per ammirare il bellissimo panorama immerso nella natura. Questa uscita era stata documentata da alcune foto che aveva postato Loren sul suo profilo Instagram, con tanto di simpatiche didascalie. La prima foto che aveva postato ritraeva Jolie con il braccio il suo cagnolino, mentre erano in auto. La seconda foto, postata sempre da Loren, ritraeva Jolie mentre portava a spasso Kiba. La terza era sempre di Jolie di spalle con il braccio il cagnolino. La quarta foto ritraeva sempre Jolie in piedi su una scogliera, mentre ammirava il bellissimo panorama e mentre stava scattando una foto con il suo cellulare. Ma purtroppo questa immagine sarà l'ultima foto di Jolie in vita. Infatti quel giorno Loren aveva in mente qualcosa di molto diverso da una semplice escursione. Il suo piano era di trascinarla con lui per ucciderla. Voleva uccidere Jolie e quel piano purtroppo funzionò perfettamente. Mentre Jolie stava ammirando lo splendido panorama, Loren tirò fuori un'arma e le sparò due volte alle spalle. Il primo proiettile la colpì nella parte posteriore della testa. Ora vorrei fare una precisazione. In alcune fonti c'è scritto sul collo, in alcune fonti c'è scritto sulla testa, quindi non so darvi con esattezza questa informazione. Si sa comunque che una volta che Jolie era per terra, Loren girò il suo corpo e le sparò ancora una volta in mezzo agli occhi. Dopodiché gettò il suo corpo giù da una scogliera. Dopo aver ucciso senza pietà la persona che diceva di amare, e aggiungerei come un codardo visto che l'ha colpita alle spalle, Loren chiamò la polizia. Con un tono di voce piuttosto calmo confessò di aver appena ucciso la sua ex ragazza. In quella chiamata disse di volersi costituire per l'omicidio di Jolie Cullen. Aspettò sul ciglio della strada l'arrivo della polizia e non ci volle molto tempo prima che la polizia trovasse il corpo senza vita di questa povera ragazza. Loren aveva alcune macchie del suo sangue ed era abbastanza chiaro cosa fosse successo, quindi venne accusato di omicidio. Ma nonostante la sua telefonata alla polizia e la sua confessione, Loren si dichiarò non colpevole. Sentite la sua versione assurda, nessuno crederebbe a questa versione. Comunque affermò di aver sparato a Jolie come parte di un patto, non posso dire questa parola, comunque S-U-I-C-I-D-A e che non era stato in grado di proseguire perché alla fine non aveva avuto il coraggio di togliersi la vita lui stesso. Amici era chiaro che lei non si sarebbe mai aspettata una cosa del genere. Non avrebbe mai pensato che il ragazzo che diceva di amarla l'avrebbe uccisa così, a sangue freddo, poi alle spalle. Ma adesso arriva la parte più assurda di questo caso. Qualcosa che vi lascerà davvero senza parole. Durante la prima udienza in tribunale, avvenuta nel novembre 2015, Lorraine affermò ancora una volta che l'omicidio di Jolie non era altro che questo patto che lui e questa ragazza avevano stretto qualche tempo prima. Quindi entrambi i ragazzi dovevano morire, ma la famiglia e gli amici di Jolie non credevano minimamente a questa versione. Jolie era una ragazza solare, si stava preparando per il futuro lavorativo e non sembrava assolutamente depressa. Era molto più probabile che Lorraine l'avesse uccisa a sangue freddo a seguito di un suo ennesimo tentativo di recuperare la loro relazione, quindi a seguito di un ennesimo rifiuto da parte di Jolie. Comunque la difesa sosteneva che Lorraine avesse la sindrome di Asperger e che in quel momento, cioè nel momento in cui aveva sparato e ucciso senza pietà questa ragazza, non era consapevole della gravità delle sue azioni e quindi avrebbe dovuto ottenere una specie di sconto. Dovete sapere che secondo la legge dell'Alabama qualsiasi imputato di età inferiore a 21 anni può richiedere lo status di giovane criminale. Ora io l'ho tradotto letteralmente perché non sono riuscita a trovare una traduzione precisa, comunque questo status garantisce all'imputato di scontare non più di tre anni di carcere, indipendentemente dalla gravità del crimine che ha commesso. Questo perché è minorenne praticamente, quindi venne applicata una cauzione piuttosto bassa, era di circa 15 mila dollari che Lorraine o chi per lui era riuscito a pagare, insomma alla fine questo ragazzo è uscito come un uomo libero. Michael Callan, cioè il padre di Jolie, a questo punto deluso e devastato da questa notizia non rimase fermo con le mani in mano ma chiamò i telegiornali della zona e cercò in tutti i modi di mettere in luce questa tragica vicenda a cui non era stata data giustizia. I familiari e gli amici di Jolie con l'aiuto di una televisione locale presentarono una petizione per ottenere giustizia. La storia di Jolie iniziò a rimbalzare da un notiziario all'altro e questo servì, quindi la tenacia di Michael insieme allo sdegno dell'opinione pubblica fecero in modo di ribaltare lo status di giovane criminali di Lorraine. Infatti dopo due anni, poi comunque lui per due anni è riuscito ad andare in giro libero come se niente fosse, comunque dopo due anni anche i pubblici ministeri chiesero a gran voce al giudice di riconsiderare quella decisione. Dopo due anni di libertà Lorraine si dovette ripresentare in tribunale ma a quel punto fece una dichiarazione che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il 13 luglio 2017 Lorraine si dichiarò colpevole dell'omicidio di Jolie Callan. I suoi avvocati chiesero clemenza sostenendo che ci fossero prove che suggerivano che questo ragazzo soffrisse di una malattia mentale oltre che soffrire della sindrome di Asperger. Il giudice tuttavia non si fece influenzare. Alla fine dei conti tutte le prove indicavano che quell'omicidio fosse premeditato. Quel giorno Lorraine aveva convinto Jolie a trascorrere una giornata insieme a lui in amicizia. L'aveva convinta a fare un'escursione visitando un bellissimo panorama e si era portato con sé una pistola se non è premeditazione questa. Lorraine quindi è stato processato d'adulto e condannato a 52 anni di carcere ma avrà diritto alla libertà condizionale dopo 15 anni. Questa sentenza secondo il mio modesto parere è semplicemente una magra consolazione ma almeno avuto un minimo di giustizia. Tra l'altro non è neanche così scontato che lui riesca a ottenere la libertà condizionale tra 15 anni o 10 anni scusate anche perché secondo alcune testate giornalistiche pare che Lorraine si sia vantato di questo omicidio con i suoi compagni di cella e che abbia detto la classica frase l'ho uccisa io perché o mia o di nessun altro. Durante l'udienza che ha portato alla condanna di Lorraine i familiari e gli amici di Jolie hanno indossato dei nastri e dei vestiti del suo colore preferito appunto il viola. Lo hanno fatto soprattutto per onorare la memoria di questa splendida ragazza che avrebbe potuto fare moltissime cose nella sua vita ma purtroppo per l'ennesima volta qualcuno ha deciso per lei. Il padre di Jolie, Michael, si è detto comunque soddisfatto della sentenza anche se ovviamente questa giustizia non riporterà di certo in vita sua figlia ma almeno la famiglia si è assicurata che questo personaggio stia in carcere il posto in cui a mio parere meriterebbe di stare per tutta la vita. Io come sempre sono senza parole come sempre vi ringrazio specialmente se siete rimasti fino alla fine di questo video e come sempre vi chiedo di lasciare il vostro commento qui sotto sapete che mi fa molto piacere leggere le vostre opinioni e io come sempre vi mando un grandissimo abbraccio virtuale e ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Ciao!